E quindi ha avuto, io lo racconto brevemente perché poi in realtà la cosa più interessante è vedere i suoi dati di questo progetto al Progotto, di cui parleranno successivamente Emanuele Curti, Marina Serena e un antico amministrativo, abbiamo avuto la regione Basilicata e la parola di Antinio, la regione Unia, Perroni lo discuteremo anche poi successivamente. Tutto questo si lega anche alle politiche della regione Basilicata Probabilmente faranno questo di professione che lo scusa se uso la terminologia sbagliata Purtroppo, a differenza di quanto in Italia, turismo e cultura sono nudi E' un progetto che è nato dalla... Preserva, e questo è esattamente quello che la messaggio italiana va a Giordano in quella direzione Grazie per la sua attenzione Grazie 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 Grazie